Strada in salita per la palacanestro Trapani che ieri pomeriggio ha perso il primo confronto della serie play-off contro Udine con il risultato finale di 66-55. Una partita in cui granata hanno rincorso e hanno tirato male dalla lunga distanza. Una gara da play-off con una cospicua intensità difensiva che ha prevalso sul bel gioco in campo. Le due squadre non hanno giocato al meglio delle proprie possibilità, ma le tante rotazioni a disposizione di rilevo hanno consegnato ad Udine una meritata vittoria. Decisivo è stato l'apporto dell'ex Francesco Pellegrino, migliore in campo nonostante i soli sette punti realizzati. I suoi centimetri sono stati un vero e proprio problema per le idee tattiche della formazione granata. Coach Matteo Boniccioli è stato bravo ad arginare la Marshall Colbet, cambiando spesso l'uomo difensivo, assegnato sul giocatore di maggior talento della palacanestro Trapani. La palacanestro Trapani è rimasta a Udine, dove domani a partire dalle 18 giocherà gara 2. Dopo i tamponi, il cui esito è stato negativo per tutti i tesserati, i Granata nel pomeriggio effettueranno un allenamento di rifinitura. Sappiamo che con loro è molto difficile far canestro, soprattutto hanno un occhio di riguardo sulla Mar, cambiando spesso marcatura e i tiri di la Mar sono stati a percentuale difficile. Tirare con queste percentuali e vincere credo che sia proibitivo. Altri hanno sbagliato tiri aperti di ottima qualità, possiamo fare meglio, possiamo ricercare il tiratore soprattutto in alcune situazioni meglio. Non ci siamo arrivati, questo è dovuto anche al fatto che le rotazioni corte rispetto a loro ci penalizzano un po'. Niente, sappiamo che è una serie veramente difficile, al limite del proibitivo. Dobbiamo giocare umili e giocando la palacanestro, cercare di fare la palacanestro che abbiamo fatto nei mesi centrali della stagione, sapendo che siamo un po', passatemi il termine, castrati tatticamente perché possiamo variare poco i quintetti non avendo Curtis, quindi utilizzando poco mollo da tre. Detto questo, Udine ha giocatori di esperienza, ha messo una fisicità pazzesca, terzo e quarto quarto, ma se guardiamo i parziali direi che il break è stato il secondo quarto quando ci puniscono, quando non siamo più lucidi, sia in difesa che in attacco. Gli altri tre quarti sono stati abbastanza combattuti, dobbiamo mantenere la stessa intensità difensiva aggiustando qualcosina, è un po' più pazienti in attacco perché possiamo prendere tiri migliori.